Ti invito ad ascoltare, a partecipare, se vuoi dire la tua, su una questione che ieri abbiamo affrontato così solo in anteprima col professor Michetti e che riguarda sempre questioni costituzionali, perché con il prof parliamo di questioni costituzionali e legali intorno a tutta questa questione. Però è una cosa interessantissima perché vogliamo capire, e cioè la rappresentanza della nostra politica. Ora, noi sappiamo tutti, al bar si dice, dal parrucchiere, dal barbiere si dice, quando si incontrano gli amici, la politica non conta più niente, ormai conta la finanza. È vero, questa è una verità, si dice anche, molte persone lo hanno capito e quindi anche nei dibattiti popolari se ne parla, che ormai la politica, che sono, molti dicono, ah sono dei fantocci, dei burattini messi lì con i fili, eccetera, va bene. Ora però vogliamo capire quanto questo sia costituzionale e quale potrebbe essere il rimedio, e chiedo poi a Enrico due minuti veramente di risposta su questo interrogativo sul quale ci siamo lasciati ieri. Oggi noi abbiamo un governo, comunque, che è rappresentato per il 33% da un partito che è andato alle elezioni, ovvero ha chiesto la rappresentanza, ha chiesto una delega dicendo, guardate, noi faremo questo, apriremo il Parlamento come una scatoletta di sardine perché dobbiamo togliere gli interessi della grande finanza, il liberismo, dobbiamo andare contro il liberismo, dobbiamo ritornare ad una, voglio dire, onestà, 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 via i conflitti di interesse, via questo, via quell'altro. Ecco, quindi ci sono tutta una serie, cioè via Euro, via questa Europa dispotica, ci sono tutta una serie, un manifesto che il Movimento 5 Stelle ha pubblicato all'epoca e tutti i suoi parlamentari, io ricordo addirittura le prese in giro a Renzi quando Di Maio entrava nell'aereo, nel Renzi, come nell'Air Force Renzi che poi ancora sta lì, abbiamo speso centinaia di milioni per un oggetto che vale nulla praticamente, c'è una perizia, dice, ne vale tre, ne abbiamo spesi più di cento e passa, 160 mi sembra, una cosa del genere, una cosa pazzesca, ha fatto quattro voli e si è fermato perché è uno degli aerei, sai quelli, proprio che, quelli che sono venuti male, quelli che all'Air Bassi gli sono venuti male, ne hanno prodotti pochi e gli erano rimasti sullo stomaco e uno ce lo siamo beccati noi con le nostre tasse, vabbè, comunque detto questo, quelli che dicevano guardate, vedete, eccetera, eccetera, per quel motivo, con quella grande campagna, con quelle promesse elettorali, con quella richiesta di delega, il popolo italiano è andato alle urne, ha dato una delega, va bene, poi oggi ci ritroviamo con le persone che hanno ricevuto una delega, e come io delego l'avvocato a difendermi in un procedimento, gli do le indicazioni, quello va in aula e si mette d'accordo con la controparte e mi fottono, hai capito? Allora, questo è quello che è accaduto palesemente, in modo clamoroso col Movimento 5 Stelle, ma anche gli altri partiti non ne sono da meno, soprattutto in questa vicenda che ha visto Draghi tutti inchinarsi, diciamo, così al neo salvatore, al neo tornato profeta, eccetera. Quindi, ecco Enrico, ma da questo punto di vista, il Parlamento è sovrano perché il popolo è stato eletto, quindi io ho la delega, sì, ma tu avevi la delega a fare una cosa, se ne stai facendo un'altra la delega dovrebbe essere rimossa. Allora, la domanda è, ma è sbagliata la Costituzione o esiste qualcosa, oppure dobbiamo aspettare che finisca la legislatura, sempre con il pericolo che la prossima possa avvenire la stessa identica cosa, e addirittura che in questa si possa cambiare la Costituzione, perché data una maggioranza così larga, noi abbiamo paura che possano addirittura distruggere la nostra Costituzione. Cioè, cosa accade? Cosa sta accadendo? Purtroppo abbiamo poco tempo, quindi ti chiedo due, tre minuti, e poi voglio sentire Diego, sì. Allora, la nostra è una democrazia parlamentare, quindi le maggioranze, è chiaro che si trovano in Parlamento, però quando si disattende il rapporto tra rappresentante e rappresentato, tu facevi bene l'esempio dell'avvocato, è chiaro che il cliente revoca il mandato all'avvocato. In questo caso non esiste una revoca del mandato, perché la Costituzione fu fatta negli anni, fine anni 40, quando si privilegiava la stabilità del governo, si privilegiava, voglio dire, il fatto che non ci fossero incursioni, che comunque si desse la possibilità di conservare un esecutivo. E quindi non si previde l'istituto della revoca. Ma oggi purtroppo siamo dinanzi ad un tradimento completo di quello che è il mandato ricevuto in ragione del programma declamato. Cioè, nel momento in cui il candidato dice delle cose e poi ne fa, voglio dire, tutt'altre, è chiaro che lì si crea un cortocircuito tra rappresentante e rappresentato. Non c'è più la rappresentanza, perché la rappresentanza in qualche misura deve tener conto, anche se non in ragione millimetrica, di quello che è il mandato ricevuto dal rappresentato. E quindi, quando si crea un cortocircuito di questo tipo, è chiaro che c'è un tradimento. La parola più, credo, più emblematica che si possa utilizzare è quella del tradimento. Ma la domanda è cosa può fare il cittadino, perché il cittadino tradito, ora però, si trova appunto con queste misure, come diceva Diego, giustamente, dragoniane, ok? Perché già le sono state annunciate, oltre che le altre considerazioni che poi faremo dopo di carattere più filosofico, proprio sulla figura di un finanziere al governo. Però, voglio dire, quali sono le misure? Cioè, il popolo è stato ingannato, allora cosa fa? Cioè, nel passato poi, quando sono successe queste cose, abbiamo visto anche cose che noi non vorremmo rivedere. Cioè, noi dovremmo fare di tutto per evitare la violenza, per evitare il ripetersi di cose già accadute nel passato che non sono state onorevoli per il genere umano. Allora, il tradimento elettorale, che è una cosa infame, io uso un termine romano, molto romano, infame, perché ritengo che sia proprio così, cioè, il tradimento elettorale, che è una delle cose più infami che possano esistere, cioè, io ti debbo gestire, debbo gestire la pubblica amministrazione, chiedo di essere eletto, dando un programma, dando la mia ideologia, mostrando un ideale, un'ideologia, quello che vuoi, e poi dopo faccio l'esatto contrario e mi alleo con il nemico. Ecco, questa è una delle cose, credo, più gravi che si possano fare nell'ambito di una società civile. E se non c'è un rimedio, abbiamo un problema. Beh, devi però, devi provarlo, come provarlo? Per più provarlo, lo abbiano tradito, no? Vabbè, Francesco, dai, su te prego, abbi pazienza, che su 5 Stelle abbiano tradito, ma che stai dicendo? Ma che discorsi fai? Chi ha tradito? Chi ha tradito lì? Ha tradito il movimento perché aveva un ideale, aveva un'ideologia, è stato, ha chiesto il voto per quello e oggi ha fatto tutt'altro, sta facendo il governo con chi combatte con la maglia opposta dell'avversario, Francesco. In politica il tradimento non esiste, a meno che ci sia una prova effettiva per cui violi le norme, le regole. Fabio, non stiamo parlando di norme e di regole, stiamo parlando di etica. L'etica è un termine che non appartiene alla politica. Secondo me non appartiene alla politica. Il tradimento di fatto con l'attuale Costituzione è un atto legittimo, purtroppo. E questo è chiaramente uno simoro per cui ci sarebbe necessità di una revisione costituzionale. La revisione costituzionale potrebbe giacere, muoversi su diversi punti. Il primo è quello dell'introduzione dell'Istituto della Revoca. Il secondo è quello di un governo che dovrebbe essere necessariamente composto da soggetti che sono stati eletti. Il terzo è che il Presidente del Consiglio potrebbe essere votato direttamente dal popolo. Il quarto è che ci sia una possibilità di verifica da parte del popolo della corretta esecuzione del mandato ricevuto dal popolo stesso. Voglio dire, è chiaro che su questo si potrebbe aprire una discussione, ma la si dovrebbe aprire da 40 anni una discussione, da quando il Paese è uscito diciamo dalle sabbie della dittatura e da una guerra civile che comunque per alcuni versi ancora ha lasciato degli strascichi tra una parte e l'altra delle fazioni che si contendevano poi le ragioni di un'esistenza diversa. Però c'è bisogno di una revisione di una revisione costituzionale. Ecco, su questo Fabio, ma lo dico anche a Diego, lo dico a Francesco perché Francesco dice una cosa corretta, l'etica in politica si può tradire e questo non va bene. Ma questo legalmente se si può fare va corretta, scusate, perché questo è oggetto di revisione. Le guerre nascono per questo ragazzi, cioè vogliamo ancora guerre, se vogliamo guerre continuiamo a dire che la politica può tradire e va bene, vogliamo vedere il sangue nostro dei nostri figli oppure dei nostri genitori, se lo vogliamo vedere, continuiamo a dire che si può tradire. Diego, che ne pensi su questo argomento? Dunque, l'argomento è articolato e ne avete ben espresse alcune aporie, alcune aporie, perché effettivamente la possibilità del tradimento esiste ed è purtroppo questo tradimento palese, credo, conclamato, tant'è che larga parte degli stessi che appartenevano al Movimento 5 Stelle hanno compiuto un esodo evidentemente non tollerando l'infamia del tradimento, tuttavia questo tradimento rivela, credo, una cosa che già avevamo compreso da tempo ma che ora è divenuta inconfutabile, ossia il fatto che se un tempo ai tempi dei totalitarismi rossi e neri esisteva un unico partito perché gli altri erano corilegge, oggi invece nell'epoca del finto pluralismo liberista esistono partiti molteplici che però sono manifestazioni plurali del medesimo messaggio che si può chiamare Mario Draghi con una sinettoche ma che in realtà è di fatto né più né meno che l'ordine liberista cioè il potere economico con subordinazione integrale della politica all'economia dello Stato al mercato questo è il punto naturalmente se avesse vinto direttamente il partito democratico Forza Italia faccio due nomi a caso nelle elezioni del 2018 non vi sarebbe stato bisogno di percorrere questo detour questa lunga via che ci ha portato dal 2018 a oggi ma dato che la sovranità popolare questa fastidiosissima cosa che ancora esiste all'interno dello Stato nazionale italiano si era espressa altrimenti hanno dovuto inventare un'altra via per far sì che vincesse in forma fintamente democratica quello che già era stato stabilito oggi c'è una tale avversione anche a livello di retorica pubblica contro il principio della democrazia che è spaventosa non solo in ambito accademico troviamo un florilegio di testi che tematizzano quello che si può compendiare nella formula against democracy uscì un importante libro nel 2016 proprio su questo tema per inciso ma che in qualche modo fa passare l'idea che siano più efficaci le task force l'expertise liberista i tecnici e che in qualche modo le masse nazionali popolari siano inadatte a esprimere un giudizio e quindi in questo modo viene disarticolato il principio stesso della democrazia in sostanza la democrazia che già è ridotta tendenzialmente a forma priva di sostanza e più precisamente a procedura tende anche a essere messa in discussione come procedura allorché la sovranità popolare esprima desideri diversi rispetto a quelli delle elite progressiste e mercatiste le quali debbono reimporre il proprio desiderio in ogni modo gli italiani nel 2018 a torto a ragione non sta a me dirlo votarono con grande attenzione il Movimento 5 Stelle e anche la Lega che avevano puntato tutto sul principio di sovranità nazionale e adesso gli italiani si trovano nella traiettoria che ci porta dal 2018 al 2021 ad avere un governo con Mario Draghi appoggiato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle quindi credo che parlare di tradimento sia la palissiano in qualche modo è in re ipsa il tradimento come è possibile che ci prometterate nel 2018 il recupero della sovranità nazionale con tanto di esodo dall'Unione Europea e dall'Euro e adesso non soltanto non propugnate più quelle posizioni ma addirittura costituite un governo insieme all'Euro in omane più impenitente come io sempre bonariamente lo appello cioè con Mario Draghi ex Goldman Sachs uomo della BCE uomo del Panfilo Britannia credo che chiamarlo tradimento sia utilizzare una parola esplicita e appropriata tradire significa di fatto negare le proprie premesse significa negare con l'azione ciò che si è espresso con le parole significa quello che è stato fatto in questi casi mi pare che sia più che mai evidente quello che sta avvenendo tutto sommato io devo dire che in questa fase storica credo sia infinitamente più rispettabile il partito democratico rispetto alla Lega o al 5 Stelle se non altro il partito democratico ha subito espresso la propria posizione chiaramente pro Unione Europea pro globalizzazione pro mercato e quindi ha mantenuto fede alle sue premesse alle sue promesse il tradimento non è il loro o meglio il tradimento del partito democratico rispetto a Gramsci o al partito comunista è avvenuto tempo addietro ora si sono stabilizzati dopo aver tradito Gramsci e le classi lavoratrici si sono stabilizzati dalla parte del padronato cosmopolitico e svolgono coerentemente la loro parte senza tradire ulteriormente qui invece il tradimento politico del 5 Stelle e della Lega mi pare evidente mi pare sotto gli occhi di tutti e quindi che sia avvenuto a norma di Costituzione è evidente